Ma come si può pensare di lasciare una persona totalmente sola e abbandonata a se stessa, senza l'incoraggiamento, la vicinanza e la carezza ad un proprio caro? E in questa domanda il cuore della lunga lettera giunta in redazione è firmata da Stefania Mazza. Il problema è l'isolamento dei pazienti nelle strutture di cura, soprattutto persone fragili, che sono passate dalle attenzioni quotidiane di casa propria alla solitudine di una camera di degenza, di storie e segnalazioni ne arrivano tante. Alla nostra TV non si fa differenza tra i grandi ospedali della regione o le cliniche private. La mancanza di assistenza genera un cortocircuito che fa male alle famiglie e alle stesse strutture sanitarie. Chi scrive parla di malati tenuti in ostaggio. Nelle stanze dove dormono e vivono i malati non si entra più, si legge ancora nella missiva. Queste persone, aggiunge, sono prigioniere del sistema che si è venuto a creare con il Covid. I malati, specie alcuni malati, conclude, hanno bisogno continuo di famiglie, di affetto, di carezze, di sentirsi rassicurati, attenzioni che nessun impermiere o medico non si mette in discussione e la professionalità potranno mai dare. Aprite le porte è l'appello finale. Aprite le porte e basta. Uno stato di cose che diventa ancora più incomprensibile se si tiene conto del fatto che a breve i presidi di protezione come le mascherine non saranno più obbligatori nelle corsie.